Ben trovati, un po' di tempo fa feci una riflessione sulla felicità, come questa poteva essere inseguita ed ottenuta alla base della felicità di ogni uomo, al di là delle passioni, dell'amore, del rapporto con la propria famiglia, con la propria donna o col proprio uomo, c'era una necessità, la felicità può essere garantita dai governi, la felicità è resa alle famiglie, a ogni individuo, alla collettività da un'azione di buon governo. Oggi leggendo casualmente una frase di una rock star, di colui che insieme a Paul McCartney, Ringo Starr, creò i Beatles, ossia John Lennon, mi viene un'ulteriore analisi nella mia mente. John Lennon ha scritto A scuola mi chiesero come volevo essere da grande, io scrissi esser felice, mi dissero che non avevo capito il compito e io dissi loro che non avevano loro capito la vita. E qui emerge la speranza e l'obiettivo, quello di volere essere felici. Ma oggi, se ognuno di noi dovesse porsi l'obiettivo della felicità, potrebbe raggiungerlo, conseguirlo unicamente con la propria forza, con la propria volontà, non voglio essere pessimista, ma ogni giorno leggiamo purtroppo le dichiarazioni dei vari governanti e ogni giorno io avverto che pur nella speranza ognuno di noi di voler vivere per conseguire la propria felicità, troppe volte purtroppo ci accorgiamo e mi accorgo che è bello vivere, ma è difficile raggiungere la felicità se non sei messo nelle condizioni. Al di là degli affetti che ognuno di noi può avere come fortuna all'interno della propria abitazione, nella cerchia dei propri amici. Sì, perché guardando anche a questo dibattito ulteriormente vergognoso a proposito del futuro delle nuove generazioni dal punto di vista pensionistico, capisco che ancora una volta si fa demagogia o si prende in giro. Il segretario generale della UIL, Barbagallo, proprio ieri a sera a me ha dichiarato che la posizione di Padoan per ora è soltanto virtuale, ha ragione e ha ragione il segretario del sindacato dei lavoratori di uno dei tre confederali, quando addirittura afferma probabilmente vogliono creare un Robin Hood complesso e diverso dalla sua origine. Robin Hood era colui che tentava di rubare ai ricchi per dare ai poveri. Oggi giustamente si fa una riflessione che tanti vogliono non rubare, sottrarre a chi è già povero per tentare di dare a qualcuno che magari può essere ancora più povero di quel soggetto. e questo è lo scandalo e questo è il dramma di come realmente potrebbe non essere facile la felicità quotidiana e la felicità a lunga scadenza da parte delle generazioni, di coloro che nasceranno o di coloro che sono già nati, che ancora non trovano un posto di lavoro, figuriamoci se possono pensare alla propria pensione e quindi un vivere, come dire, sereni visto che la vita si sta allungando. E allora ascoltare coloro che ci dicono quotidianamente che stanno lottando per noi credo che sia solamente una valutazione ingiusta e vigliacca nei riguardi di tanti cittadini e cittadine, di tanti uomini e donne, giovani e meno giovani, perché se il Presidente dell'Inps afferma che per garantire le pensioni occorrono 7 miliardi di Euro ci sarebbe dovuto essere qualcuno che avrebbe dovuto rispondere a Boeri, bene andate a Panama e sequestrate una parte di quei capitali che i vostri amici potenti hanno pensato di metterli al sicuro e magari quindi fate i veri Robin Hood, rubate ai ricchi per dare ai poveri. A domani.